Cavetto USB Lightning da 2 metri 10,39€ il prezzo di questo prodotto vado ad aprirlo intanto e vi dico che questo è o no è un brand del gruppo Amazon e sappiamo già che Amazon sui cavetti per dispositivi Apple e tra i top li fa di una qualità superiore a quelli originali in termini di capacità di trasferimento della corrente all'interno dei suoi cavi. Quindi mi aspetto che anche questo sia super perché essendo dello stesso gruppo dovrebbe esserlo almeno quelle sono le aspettative ma invece no assolutamente qua abbiamo le stesse caratteristiche dei cavetti originali che tanto odiamo perché hanno un connettore che è proprio identico cambia solo il logo che c'è sopra al connettore questo è identico all'originale ma non è una bella cosa perché sappiamo che i cavi originali Apple hanno dei difetti e cioè dopo un po' si vanno a spaccare nel punto di giuntura tra i tre tipi di plastiche e quindi purtroppo questo è un cavetto che io personalmente non consiglierò più di tanto. Ce ne sono altri del gruppo Amazon che invece sono molto più performanti più che altro per il connettore che è appunto fatto in una maniera migliore, più affusolata, più lunga e quindi si va a innestare sui vari tipi di plastica con una maggiore superficie consente la presa con due dita senza andare a spingere a forzare il punto di giuntura tra i vari tipi di plastica che lo vedete l'unghia si impianta tra i vari tipi di giuntura e purtroppo siamo un po' da capo da questo punto di vista. Peccato perché 10,39 euro non sarebbe male per due metri di cavo solitamente sono da un metro, un metro qualcosetta e quindi sarebbe stato bello. Fatto così il connettore proprio dal mio punto di vista non ci siamo poi nulla toglie tra l'altro sono certificati MFI e quindi vanno bene anche per il trasferimento dei dati questi dispositivi però vedremo quanto durano purtroppo hanno lo stesso difetto di costruzione di quelle originali.